Per evitare il moltiplicarsi di celebrazioni matrimoniali nulle, servono un nuovo catecumenato che prepari il matrimonio e un progetto di formazione per i giovani sposi. Lo ha ribadito con forza Papa Francesco nel suo tradizionale discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Ai giudici, ufficiali, avvocati e collaboratori del Tribunale, il Papa ha indicato in una formazione efficace, prima e dopo il sacramento del matrimonio, la via principale per aiutare oggi gli sposi. Di fronte a una mentalità che tende ad oscurare la fede, diffusa anche fra gli stessi cristiani, Francesco ha proposto, come indicato dal Sinodo sulla Famiglia del 2015, di rafforzare le esperienze di fede di chi chiede un matrimonio cristiano e di accompagnare come Chiesa i giovani sposi nei primi fondamentali anni del loro cammino insieme. Mi sento di ribadire la necessità di un nuovo catecumenato in preparazione al matrimonio, accogliendo gli auspici dei padri dell'ultimo sinodo ordinario, è urgente attuare concretamente quanto ci ha proposto in familiari sconsorzio, che, cioè, come per il battessimo degli adulti, il catecumenato è parte del processo sacramentale, così anche la preparazione al matrimonio diventi parte integrale di tutta la procedura sacramentale del matrimonio, come antidoto che impedisca il moltiplicarsi di celebrazioni matrimoniali nulle o inconsistenti. Nel cammino di crescita umana e spirituale dei giovani sposi, ha aggiunto poi il Papa, è auspicabile che vi siano dei gruppi di riferimento in parrocchia o in diocesi, nei quali poter compiere un cammino di formazione permanente. Perché occorre grande coraggio a sposarsi nel tempo in cui viviamo, ha concluso Francesco, e quanti hanno la forza e la gioia di compiere questo passo importante, devono sentire accanto a loro l'affetto e la vicinanza concreta della Chiesa.